Protezione civile e amministrazione comunale di Torre Vecchia Teatina insieme per la giornata mondiale per il cuore. Con il sindaco nonché dottor Francesco Seiccia facciamo un bilancio di queste due giorni che ha richiamato davvero l'attenzione di tanta gente. Sì Paolo, grazie e buongiorno a tutti anzitutto. Oggi è una giornata importante, celebriamo oltre al volontariato anche il World Day, cioè la giornata mondiale del cuore. Grazie alla partecipazione dell'Associazione di Protezione Civile Giustino Romano abbiamo realizzato una serie di iniziative a partire da alcune lezioni dedicate alla popolazione e anche alle scolaresche sull'utilizzo del defibrillatore e sulle prime manovre di pronto soccorso. Sono state fatte lezioni sulla prevenzione cardiovascolare e tutti i rischi a essi connessi e adesso in questo momento stiamo facendo degli elettrocardiogrammi ai maggiorenni giusto a prevenzione sempre al fine di poter tracciare e monitorare quelli che sono gli aspetti preoccupanti delle problematiche cardiache. Una grande partecipazione di persone, da stamattina dicevo con le scolaresche, quindi è un'attività che ha coinvolto una fascia ampia della popolazione, dai più giovani ai più anziani. Come si dice prevenire meglio che curare, d'altra parte l'infarto è la prima causa di morte, quindi bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica. Assolutamente ed è proprio per questo motivo che nascono giornate come queste, proprio per far capire alla popolazione l'importanza della prevenzione, non solo primaria ma anche secondaria, ovvero dopo un evento ischemico che ci può essere stata, la necessità di continuare a monitorarsi e a controllarsi.